Buongiorno a tutti, allora ieri nulla di che praticamente sono rimasta come al solito a casa perché volevo finire un videogioco che avevo cominciato Ero arrivata a buon punto e nulla a parte il fatto che sono rimasta a casa poi mi farò perdonare del fatto che non sono andata da nonna per ben due giorni Però posso andarci quando voglio e nulla, ieri sono rimasta a casa e non proprio ad annoiarmi però ne avevo voglia Vabbè, oltre a quello nulla, voi che cosa fate durante queste vacanze estive? Io non faccio granché, devo ammetterlo, però passo il tempo come meglio posso E nulla, spero che queste giornate siano un po' più divertenti per voi che per me Io adesso vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovissimo blog Scusate se ultimamente non registro tanto ma non ne avevo voglia, tanto adesso mi riprendo, ciao!